Siamo pronti per la palla a due. Inizia il match con il primo possesso delle padroni di casa che scendono in campo con il quintetto solito quindi con Mancabelli numero 10, numero 13 Vicenzotti, 16 da Pozzo, 21 Rainis e 44 Ofomata. Viterbo risponde con il numero 1 Pugioni, 5 Raiola, 9 Ciavarella, 11 Romagnoli e 16 Cutrupi. Palla ancora per Udine, Ofomata nell'angolo. Arriva lo scarico per Rainis che cerca il pertugio per arrivare al canestro. Fermata bene dalla difesa, allora Ofomata in suo aiuto sfrutta bene la linea di fondo. EJ Ofomata, il primo fallo del match. Il fallo è della numero 16 Blu, Cutrupi. Primo fallo personale. Sono solo 25 i secondi trascorsi in questo inizio gara. E Ofomata segna il primo punto. Buono anche il secondo per la numero 44 in maglia bianca. Subito 2-0 quindi per Udine che ora si ritrova a difendere contro la defensa Orviterbo. Raiola, palla fuori per la compagna. Arriva in suo aiuto Cutrupi. Puggioli sul lato sinistro contro Mancabelli. Si chiude bene la difesa di Udine. Scorrono intanto i secondi. Arriva la palla intercettata da parte di Carlotta Rainis che fa ripartire la squadra. Nessuna difficoltà per Mancabelli a superare la linea di metà campo. Dopo la palla arriva nelle mani del capitano. C'è la tripla. L'errore. E poi un rimbalzo che premia la squadra in difesa. Altra rimessa per Viterbo. Dopo il rimbalzo l'ultimo pallone è stato toccato da una giocatrice in maglia bianca. Quindi nulla di fatto per questa seconda azione di Udine creatasi dopo la palla recuperata di Rainis. Ora Viterbo però sfrutta il contropiede. Fino in fondo i due punti della numero 16 Kutrupi. Due a due. Ora palla a Rainis per impostare una nuova azione. Mancabelli è libera. Rinuncia al tiro. Si butta dentro contro tre difensori. Trova un assist spettacolare per Igei Ofomata. Palla appoggiata al tabellone. Altri due punti. Sempre per Igei Ofomata. Di nuovo Viterbo. Difesa aggressiva di Carlotta Rainis. Questa volta il numero 5 Raiola riesce a passare la palla alla compagna. Kutrupi si inventa anche lei un assist molto bello per Romagnoli. Che ha battuto il capitano. Si è fatto sorprendere con questo backdoor. Ora di nuovo Viterbo che ruba un pallone molto importante perché arriva la tripla di Pugioni. Pugioni sorpasso Viterbo che dopo il primo parziale udinese si è portato sul 7 a 4. Udine risponde con Mancabelli che però non trova il fondo della retina. Il rimbalzo è per Viterbo che riparte. Le laziali stanno alzando il ritmo in questo inizio gara. La palla nelle mani di Ciavarella che si arresta e si prende il tiro. Troppo lunga la sua conclusione. La palla poi si spegne fuori dal campo e per Udine c'è rimessa. Palla rimessa in campo. Viterbo prova ad alzare la difesa. Udine però è abile a superare la linea di metà campo. Ora Mancabelli. Gioca a due con Ofomata. Poi si butta dentro contro il difensore. Segna e subisce il fallo. Finalmente esce fuori la Mancabelli che conosciamo. Udine ritorna almeno uno. Sei a sette. Ma ora Mancabelli al tiro libero supplementare. Quindi gioco potenziale da tre punti per la Guardia Odinese. Assegno Mancabelli. Tre punti per lei. E di nuovo parità al pala Benedetti. Ora però è Viterbo a ripartire con Ciavarella. Si trova chiusa dalla difesa. Il passaggio allora a Pugioni che mette in ritmo Raiola. Raiola si sbatte contro la difesa. La palla poi esce fuori dal campo. C'è rimessa Viterbo sempre in attacco con 13 secondi sul cronometro. Raiola palla per Pugioni che si ritrova di nuovo libera fuori dall'arco dei 6.75. Non ci pensa due volte la numero uno è Maglia Blu. Questa volta però è meno fortunata. Allora può ripartire il contropiede udinese. O Fumata questa volta scheggia solo il ferro. Il rimbalzo è sempre di Ciavarella che è abile a farsi largo tra le maglie avversarie. scambi veloci in questo momento in campo. Vicenzotti anticipa il passaggio. Poi però Viterbo riesce a tamponare e a far fischiare all'arbitro la palla contesa. Per l'alternanza sarà palla blu. Viterbo sotto con la numero 16 Qtrupi. Palla recuperata però da Udine che corre in contropiede. Forse un fallo su Mancabelli. Poi Rainis sbaglia un rigore da sotto. Sempre 7 a 7 quindi non cambia il punteggio. Viterbo può respirare. Si ritorna in fase offensiva con la squadra di Coach Scaramuccia. Gira bene dal pallone. Viterbo arriva al tiro dall'angolo sempre di Pugioni. Udine riesce questa volta a recuperare l'imbalzo. e Mancabelli decide di aspettare tutte le compagne prima di attaccare il ferro. Arriva Rainis allora a gestire il possesso. Attacco lento. In questo istante per Udine che si ritrova poi sotto canestro con il taglio di Dapozzo. Fallo sulla numero 16 Udinese. Non era in fase di tiro quindi ci sarà solo rimessa in attacco. Per Udine 8 secondi per arrivare al ferro. Mancabelli contro due avversari si gira bene. Usa bene il piede perno e sono altri due punti per la numero 10. 9 a 7 il punteggio qui al Palabenedetti quando ci avviciniamo alla metà di questo primo periodo. Ricordiamo che Viterbo arriva dalla partita vinta contro Salerno mentre Udine quella contro San Martino sempre qui in casa sabato scorso dopo una partita molto equilibrata. Anche oggi Udine non riesce a prendere subito il largo. Vediamo in queste prime battute Viterbo attaccata a sole due lunghezze di distanza. Ora Udine in attacco con il capitano che va tagliato molto bene in mezzo all'area servita da Dapozzo. Per l'arbitro c'è il fallo su Vicenzotti e per lei due tiri liberi. Buono il primo. Buono anche il secondo. Due su due anche per Deborah Vicenzotti che trova i primi punti della sua partita. Ora Viterbo che deve fare i conti con la pressione difensiva udinese. Ci pensa a Raiola contro Rainis a servire la numero 16 Cutrupi. Poi Pugioni. Di nuovo Raiola sul lato sinistro. Arriva in suo aiuto Cutrupi per il gioco a due. Poi Raiola pasticcia con il pallone. Ancora palla contesa perché Ofomata era andata a disturbare l'attacco di Raiola. La freccia premia nuovamente la defensor Viterbo. Siamo sempre in attacco. Sono 4 i secondi però alla fine di questa azione offensiva. si fa vedere bene la numero 9 Ciavarella che segna da sotto da sola difesa addormentata in questo frangente. E di nuovo 11 a 9 sempre meno 2 per Viterbo che non si vuole staccare. Ora Rainis chiama lo schema contro la zona di Viterbo. Mancabelli prova il passaggio per ribaltare il lato anticipato però dalla difesa molto attenta. Riparte la transizione della formazione ospite. Questa volta Cutrupi pasticcia nel palleggio. E' abile allora Vicenzotti a recuperare il pallone. A 4.42 però c'è il primo cambio della gara. Esce Carlotta Rainis. Entra con il numero 6 Matilda Ciotola. Anche nell'ultima partita qui contro San Martino abbiamo visto Coach Mediot usufruire della sua giovane playmaker Ciotola. Entrata l'ultima volta nel secondo quarto. Ora invece inserita subito nella prima frazione. Intanto Mancabelli commette violazione dei passi. Il possesso ritorna nelle mani della formazione di Coach Scaramuccia. E siamo sempre sull'11 a 9. Raiola contro Ciotola. Difesa alta quella di Udine che però viene superata abilmente da Viterbo. Che si fa strada fine in fondo con Raiola che però sbaglia la conclusione finale. E' sempre lei a ruotare per il rimbalzo. Altro possesso guadagnato. Poi Ofomata però riesce a recuperare. E siamo in attacco allora adesso con la formazione friulana. Si lotta sotto canestro con Vicenzotti. Ofomata però preferisce andare lei con un tiro dalla lunga distanza. Di nuovo Ofomata servita da Dappozzo. Secondo errore consecutivo per la straniera di Udine. Alla fine l'arbitro a fermare il gioco. C'è un fallo in area. E' Ciotola a difendere in maniera troppo aggressiva. E' a regalare questo nuovo possesso alle avversarie. Riparte allora Viterbo. Con 3 minuti e 52 sul cronometro. Pasticcia però Raiola che regala un pallone fondamentale a Vicenzotti. Che infatti non sbaglia. Il capitano Deborah Vicenzotti a trascinare tutte le sue compagne con questo canestro dalla media. Ora Dappozzo recupera un pallone sull'errore dell'avversaria. E Mancabelli realizza il 15 a 9. Piccolo break per le friulane. E subito coach Scaramuccia che chiama il time out. Nelle mani di Viterbo dopo l'ultimo canestro di Elisa Mancabelli. Che ha portato il punteggio sul 15 a 9. Proprio per le padrone di casa. Che ora difendono contro l'attacco di Cutrupi sul lato sinistro. Palla ora per Raiola. Che cerca lo spazio per attaccare il canestro. Poi serve bene Cutrupi che si è ritagliata dei buoni centimetri nel pitturato. Canestro di Cutrupi e 15 a 11 il punteggio. Ora Udine con Vicenzotti. Palla per Ofomata. Ciotola poi chiama lo schema per far muovere le compagne. Arriva Mancabelli ora in suo aiuto. Tanto scorrono i secondi. Poi il taglio sotto canestro di Eva Dappozzo. Dappozzo con assist di EJ Ofomata. Canestro e fallo quindi per Eva Dappozzo. E tiro libero supplementare per lei. Nel frattempo coach Mediot richiama in panchina la sua straniera Ofomata. Al suo posto falso ingresso in campo la numero 0-0 Caterina Bianco. Buono il tiro libero supplementare di Eva Dappozzo. Gioco potenziale da tre punti realizzato. E quindi 18 a 11. Udine che prova a scappare dopo il break creato nella parte centrale di questo primo quarto. Ora Viterbo che deve segnare per rimanere in gara. Palla fuori per il tiro da tre punti della numero 9 Ciavarella. Altro errore per lei. Ciavarella sta giocando questo campionato con 16 punti di media. Questa sera invece è rimasta ancora in bianco. Sperando quindi per Udine di riuscire a limitarla. Ciavarella però ora in difesa riesce a recuperare un ribalzo. Poi se lo fa rubare da Elisa Mancabelli che sigla il 20 a 11. Dall'altra parte Viterbo rischia di perdere un pallone. L'ultima a toccare secondo l'arbitro. È una giocatrice in maglia bianca. Intanto ci sono delle proteste. 17 secondi per Viterbo. Due minuti e 0,7 invece sul cronometro della gara. Riceve Raiola. Palla fuori per il tiro segnato da Flore. Entrata negli ultimi minuti. Udine supera la linea di metà campo contro la difesa aggressiva di Viterbo. Poi Eva D'Apozzo si prende un tiro dalla linea della Carità. È stata lasciata tutta libera la giocatrice numero 16. Il suo tiro però non ha trovato il bersaglio. Allora dall'altra parte Flore si prende gioco di Matilda Ciotola. Fino in fondo senza ostacoli. Flore va a firmare il 20 a 16. Meno 4 pesante se vogliamo dirla tutta. Udine sembrava aver cambiato decisamente marcia in questo finale di primo quarto. Invece Viterbo si è rifatta sotto. E ora Udine fa difficoltà ad arrivare fino a canestro. Mancabelli rischia di perdere il pallone. Anzi lo perde perché la palla esce fuori dal campo. Mediot allora rimette in campo Ijeio Fomata. Richiamando in panchina Eva D'Apozzo. E allora riparte Viterbo. Questa volta è Flore a gestire il possesso. Palla Ciavarella. Poi il Raiola. Sempre contro Ciotola. Di nuovo Flore che si prende tutto lo spazio per arrivare fino in fondo. E un altro canestro segnato da Flore. Che da quando è entrata ha dato una scossa importante alla propria squadra. Ora Ciavarella. Palla recuperata e canestro segnato. Viterbo impatta a quota 20. A 44 secondi dal termine del primo quarto. Una partita che sembrava senso unico negli ultimi minuti. Invece ora si sta trasformando in un match molto equilibrato. Viterbo sta dando del filo da torcere alle padroni di casa. Che però ora rispondono con la tripla di Elisa Mancabelli. Mancabelli ricordiamo è un ex di Viterbo. Ha giocato nella città laziale due anni fa. Per poi tornare proprio qui. Tra le mure amiche udinesi. Questa sera Mancabelli sta facendo male alla sua ex squadra. Ora Bianco recupera un pallone. Poi corre in contropiede. Ma si fa stoppare da Ciavarella. Abile a rientrare in difesa. Vedi 3 a 20 il punteggio. 4 secondi per concludere questo primo quarto. Arriva Vicenzotti. Libera. Si gira il tiro. Primo ferro. Poi Bianco ha l'opportunità di aggiustare il tiro. Ma arriva anche l'errore da parte della numero 00. E suona la sirena del primo periodo. 23 Udine. 20 Viterbo. Viterbo. Inizia il secondo quarto qui al Palla Benedetti tra Libertas Basket School e Viterbo. 23 Udine. 20. La squadra che ora sta difendendo. Arriva subito però il tripla di Deborah Vicenzotti. Che allunga il vantaggio friulano. 26 a 20. Ora subito dopo neanche 20 secondi dall'inizio di questa seconda frazione. Dopo il recupero finale di Viterbo con Flore che aveva segnato 6 punti di fila. Riportando la partita in parità. Ora di nuovo Viterbo deve inseguire. Meno 6. Ciavarella subisce il fallo. Si guadagna due tiri liberi. Buono il primo. Buono anche il secondo. Anche Ciavarella quindi segna i primi punti. In questo inizio di secondo quarto. Udine si riporta in attacco. Sempre zona per Viterbo. Circolazione molto veloce allora per Udine. Che si ritrova ad attaccare con il tiro di Elisa Pontoni. Elisa Pontoni è entrata in questa seconda frazione. Si è fatta trovare subito pronta. E dopo 45 secondi ha messo i primi due punti della sua gara. 28 a 22. Ora di nuovo Viterbo. Udine persiste a difendere a uomo. Raiola contro Ofomata. C'è una netta differenza fisica. Allora arriva in suo aiuto la compagna. Flore deve andare ad attaccare. Un secondo. Scadono i 24 secondi. E per Udine una palla recuperata. Coccia Scaramuccia intanto effettua un cambio. Esce con la numero 11 Romagnoli. Al suo posto la numero 35 Stoichkova. Udine attacca. Vicenzotti sul lato destro. Palla sotto per Pontoni. Che usa benissimo il piede perno. Vai però la sua conclusione è troppo corta. Ci pensa Mancabaglia a recuperare l'imbalzo. Vicenzotti ci riprova. Altro errore. Questa volta è Ofomata. A rimpossessarsi del pallone. Ancora il capitano. Questa volta dalla lunga distanza. Il suo errore. Permette a Viterbo di ripartire dopo il rimbalzo. Arriva anche il fallo però della difesa. Questa volta è Carlotta Rainis. A fermare la ripartenza di Viterbo. Il pallone rimane quindi alla squadra ospite. Che nel frattempo ha effettuato un cambio. E' uscita la numero 5. Raiola è entrata con il numero 8. Riccobono. Invece Udine ha richiamato in palchina Lisa Mancabelli. Autrice finora di 10 punti. Al suo posto è entrata la numero 7. Arianna Beltrame. Flore contro Vicenzotti. Arriva Stoiccova. Uno contro uno fino in fondo contro Pontoni. Che se l'era lasciata scappare. C'è il fallo proprio della lunga Udinese. Prima del tiro. Quindi ci sarà solo rimessa. 14 secondi. Per attaccare il ferro. Riccobono. Flore contro Beltrame. Stoiccova trova sotto la compagna. Kutrupi. Che prima si fa stoppare. Poi cerca di recuperare il pallone. Però pesta la linea di fondo campo. E regala il possesso a Udine. Ancora difesa a tutto campo per Viterbo. Che però lascia passare Rainis. Senza difficoltà. Poi Beltrame però spreca questo possesso. Sbagliando il passaggio a Pontoni. Riparte Viterbo. E c'è il fallo di nuovo di Carlotta Rainis. Terzo fallo personale. Mediot allora chiama subito il cambio. Nel frattempo però c'è anche il fallo tecnico. Alla panchina ospite. Per proteste. Quindi ci sarà il tiro libero. E rimessa per Udine. Nel frattempo come preannunciato. Esce Carlotta Rainis. Carica di tre falli. Entra al suo posto Vanessa Sturma. Ci pensa Vicenzotti a tirare il tiro libero. Guadagnato sul fallo tecnico alla panchina. Errore però per il capitano. E quindi nulla di fatto. 28 a 22. C'è rimessa in favore di Udine. Sempre zona 2-3 invece per Viterbo. Che cerca di tenere fuori dall'area la compagine di casa. Beltrame fa girare il pallone. Ofomata trova lo spazio per attaccare il canestro. Poi ci ripensa Sturma. Riceve il pallone fuori dall'arco dei tre punti. Ci prova. Troppo corta la conclusione. Allora Ciavarella. Recupera il rimbalzo. E si lancia in contropiede. Poi ci ripensa anche lei. E torna dalla compagna Florea. Lei ad attaccare ora il canestro. Uno contro uno fino in fondo. Arriva in ritardo la difesa di Beltrame. E per l'arbitro è di nuovo fallo. Ci saranno due tiri liberi per Florea. Sempre 28 a 22. Il punteggio qui al pallo a Benedetti quando mancano 7 minuti e 19 al termine del secondo periodo. C'è il cambio per Udine. Rientra Eva D'Apozzo che prende il posto di IJ Ofomata. Udine si è stabilita ormai da qualche minuto sul più 6 dopo essere scivolata diciamo così al pareggio al 20 a 20. Udine è molto alta allenata in queste ultime due gare sul fatto della prestazione. Non c'è continuità in campo. Vedremo ora come se la caverà la formazione di coach Mediot in questa seconda frazione. Vincenzotti. Palla per Beltrame. Gira molto veloce la palla. Di nuovo Pontoni. Questa volta la sua conclusione è sporcata. Ci pensa allora D'Apozzo a recuperare il possesso. Di nuovo Pontoni sotto canestro. Contro due avversari la palla da Pozzo che questa volta sbaglia. L'assist per Vanessa Sturma. Riparte Viterbo. Rientra bene però la difesa udinese. Si deve ricominciare quindi fuori dall'arco dei tre punti. Ciavarella pasticcia col pallone e regala il possesso a Udine. Coach Mediot preferisce chiamare il time out. A 6 minuti e 42. 28 Udine che non segna già da qualche minuto. 24 invece Viterbo. 6 minuti e 42. Al termine secondo periodo di gioco. Udine 28 Viterbo 24. Sempre la formazione frulana a gestire il possesso in attacco. Beltrame Sturma sul lato sinistro. Gira bene il pallone. Poi Beltrame si prende la tripla. Errore per lei. Rimbalzo di Mancabelli che lotta sotto canestro. Extra possesso guadagnato. Di nuovo Pontoni ora. Si gira bene. Conclusione nuovamente sbagliata. Questa volta però è Flore ad uscire vincitrice dallo scontro sotto canestro. Contropiede per Viterbo. Udine prova a rientrare. Riccoboni temporeggia troppo. Alla fine palla contesa. E per l'alternanza sarà rimessa blu. Se ne occupa Stoiccova. Blocchi per liberare Flore fuori dall'arco dei tre punti. Beltrame se la lascia scappare. Poi di nuovo Stoiccova lasciata sola dall'angolo. I due punti puliti puliti. 28 a 26. Viterbo si rifa sotto. Come alla fine del primo quarto. Ora però la rimonta è arrivata un po' prima. Siamo a 5 minuti e 47 dalla pausa lunga. Udine è solo sul più due. Da Pozzo si fa largo tra le maglie blu. Poi sbaglia il suo tiro. Alla fine è rimessa Viterbo. Con Udine che fa difficoltà ad arrivare a canestro e segnare. Siamo fermi a quota 28 da parecchi minuti. Ora Coach Medio prova a inserire nuovamente la numero 44 Igeio Fomata. Richiamando in panchina invece Eva D'Apozzo. Ciavarella contro D'Apozzo. Palla per Flore che si cerca lo spazio per attaccare il canestro. Kutrupi lasciata sola dalla linea del tiro libero. Anche per lei tiro molto pulito. E nuova parità. 28 a 28 qui al Palla Benedetti in questa gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2 femminile. Ciavarella recupera un pallone in difesa. Aspetta però il rientro di tutte le compagne. Allora poi Stoiccova ci prova. Lei a destra. Fino in fondo arriva. Il primo vantaggio per Viterbo. che dopo il 7 a 4 del primo quarto si è ritrovata solo ad inseguire. Ora invece lei con la testa in avanti. Come dicevamo Udine non segna da parecchi minuti. Ora ci prova D'Apozzo contro tre avversarie. che crea molto bene l'occasione da Pozzo. Poi però spreca nella fase finale del tiro. 4 minuti e 31. Udine è in netta difficoltà. Viterbo ci prova con Ciavarella. Si va a vedere Flore fuori dall'arco. Ora Stoiccova. Ribaltamento per il tiro da tre punti della numero 8. Riccobono. Questa volta c'è l'errore per lei. Udine può ripartire. Ma bisogna segnare per recuperare questo minimo svantaggio. Ofomata non trattiene il pallone. Permette a Flore di andare in contropiede. Prova a recuperare Ofomata. Il suo soccorso arriva a Mancabelli. Che tempestivamente recupera il pallone. Mancabelli sta facendo un'ottima partita questa sera. Oltre ad aver segnato 10 punti. È fondamentale in fase difensiva. Di nuovo Mancabelli ora per Beltrame. Lo scarico sotto per Ofomata. Che sfrutta la linea di fondo. Poi però anche lei spreca nella fase finale. Altro possesso recuperato dopo rimbalzo per Viterbo. Che ha le regni del match in mano in questo momento. Dall'altra parte arriva l'ennesimo fallo di Arianna Beltrame. Questa volta sull'attacco di Ciavarella. Che avrà l'opportunità di andare in lunetta. La pacchina di Udine deve chiamare time out. Lo fa ora. 3 minuti e 28 dalla fine del secondo periodo. 28 Udine. 30 Viterbo. Buono il primo per Ciavarella. In lunetta. Dopo il fallo subito nell'ultima azione. Da parte di Arianna Beltrame. Anche il secondo dei due tiri liberi va a segno. Vantaggio che si porta quindi sul più 4 per la formazione ospite. Udine in segue. Palla a Rainis che è entrata nel frattempo al posto di Arianna Beltrame. Sempre zona per Viterbo. Sembra funzionare questa zona contro Udine che non sta segnando ormai da 6 minuti. Vicezzotti ci prova dalla lunga distanza. Errore per il capitano. Viterbo riparte allora con Ciavarella. 1 contro 1 per lei. Poi lo scarico fuori per il tiro di Flore. Di nuovo a segno. Anche Flore sta facendo una prestazione ad alti livelli. Arriva a quota 10 punti personali. E massimo vantaggio per Viterbo sul 28 a 35. Il pubblico udinese cerca di smuovere le giocatrici in maglia bianca. Ora da Pozzo ci prova ma viene fermata ancora una volta da Cutrupi. Poi la palla contesa questa volta premia la formazione di casa. Altra rimessa in fase offensiva. Riceve Mancabelli fuori dall'arco. Ci pensa lei. Tiro dalla lunga distanza. Troppo lunga però questa conclusione. Il rimbalzo è facile per Ciavarella. E Flore non ha nessuna difficoltà a superare la linea di metà campo. Ci avviciniamo ai due minuti finali di questo secondo quarto. Flore intanto di nuovo ha tutto lo spazio per tentare la tripla. Errore. Questa volta il rimbalzo è di Vicenzotti che supera la linea di metà campo e fa ripartire l'attacco friulano. Mancabelli crea lo spazio per le compagne. Vicenzotti taglia bene in mezzo all'area. Poi però viene anticipata. Allora ci sarà rimessa dal fondo. Sempre in fase offensiva. 10 secondi per attaccare il canestro. Riceve da Pozzo. Poi Rainis. Bisogna accelerare la pratica. Rainis. Palleggio, arresto e tiro. Un po' forzata questa conclusione ma i secondi erano pochi. Viterbo allora accelera il ritmo. Stoichkova però sbaglia il passaggio. Allora permette a Udine di correre in contropiede. Mancabelli su assi di Vicenzotti. Firma il 30 a 35. Un minuto e mezzo ancora da giocare in questo secondo quarto. Cinque i punti da recuperare prima della pausa lunga. Mancabelli mette un po' di pressione a Ciavarella che perde il pallone. Ancora Mancabelli quindi a servire il contropiede di Rainis che però non riesce a trattenere il pallone. Occasione sprecata. La rimessa è di Viterbo che può tranquillamente tornare in fase offensiva. Anche Udine ha deciso di schierarsi a zona per questa fase finale del secondo quarto. Mancabelli cerca di rubare il pallone a Flore. Anche Rainis è molto aggressiva sulla ricezione di Ciavarella. Forse troppo. Infatti arriva il fischio dell'arbitro. Rainis commette il quarto fallo personale. Già nel secondo quarto. Automatico il cambio con Matilda Ciotola che rientra proprio ora in campo. Brutta tegola questa per Coach Mediot che nell'ultima gara ha sfruttato fino in fondo Carlotta Rainis. Ora invece si ritrova con quattro falli per la sua giocatrice numero 21. Intanto Ciavarella ha segno nei tiri liberi. 30 a 37 qui nel punteggio. Proprio la numero 9 ora ad abbandonare il campo al suo posto con il numero 3 Boccalato. Ultimi 58 secondi. Viterbo cerca di recuperare subito il pallone. Ciotola supera l'inimente a campo. Poi chiama lo schema. Riceve Mancabelli. Sfruttata la linea di fondo. Questa volta arriva il fallo della difesa. È proprio Boccalato appena entrata a commettere il suo primo fallo personale. Regalando a Udine questa rimessa in fase offensiva. Se ne occupa Matilda Ciotola. Serie di blocchi per liberare Eva D'Apozzo che fatica a ricevere questo pallone. Poi serve di nuovo Matilda Ciotola. Errore anche per il tiro della numero 6. Viterbo prova a ripartire. Vicenziotti poi recupera e spreca. Passaggio nettamente sbagliato dal capitano. E quindi Viterbo può ripartire. 30 a 37. 34 secondi al termine di questo secondo quarto. Boccalato. Il tiro poi da tre punti della numero 8. Riccobono. La palla entra ed esce dal canestro. Poi Viterbo in qualche modo rimane in fase offensiva. La rimessa è blu con 14 secondi. 21 invece quelli del cronometro di gara. Quindi c'è una piccola discrepanza che però viene annullata perché ora Mancabelli recupera il pallone. Lancia il contropiede. Friulano sprecato però da Ciotola che sbaglia il passaggio. Ciotola non era in equilibrio. Ha sbagliato l'appoggio finale ad Apozzo che era venuto in rimorchio. Dall'altra parte Viterbo cerca di sfruttare gli ultimi secondi. Anche la formazione di coach Scaramuccio però spreca quest'ultima opportunità. In ogni caso è Viterbo però ad uscire vincitrice da questo secondo quarto. 30 Udine. 37 Viterbo. E ora dopo i 10 minuti di pausa ricominceremo con il secondo tempo. Ricomincia la sfida tra Libertas Basket School e Defensor Viterbo per questa decima giornata del campionato di serie A2 femminile. Siamo qui al Palabenedetti per questa terza frazione. Udine insegue 30 a 37. Sono proprio le friulane ora ad attaccare il canestro. Ofomata trova i due punti. I.J. Ofomata sale a quota 6 punti personali regalando il momentaneo meno 5 alle sue compagne. Ora Udine si riporta in difesa. Di nuovo zona per la squadra di coach Mediot. Viterbo allora cerca di sfruttare la numero 16, la loro lunga. Cutrupi sotto canestro per fare da sponda. Poi il tiro di Stoichkova che non trova il fondo della retina. Allora Udine riparte e si riporta nella fase offensiva. Da Pozzo viene chiuso da tre avversarie. Prova a cercare sotto canestro Ofomata. Poi di nuovo da Pozzo per la conclusione finale. Errore nel tiro ma Cutrupi pesta la linea di fondo campo regalando un extra possesso a Udine. Un minuto già trascorso in questa terza frazione. Ancora Delser in attacco. Ofomata riceve chiusa da due avversarie. Arriva da Pozzo in suo aiuto ed è proprio la numero 16 ad attaccare fino in fondo il ferro. Fallo su Eva da Pozzo. Questa volta è Stoichkova a commettere il fallo. Il suo primo fallo personale. E da Pozzo è pronta per i due tiri liberi. Buono il primo. Buono anche il secondo. 34 a 37. Udine mette a referto un parziale di 4 a 0. E si riporta a meno 3. Ora di nuovo Viterbo però in attacco. Flore contro Ciotola. Palla per Ciavarella che prende velocità. Poi di nuovo Flore. Ciotola ci mette una mano. Questa volta riesce a recuperare la palla perché per l'alternanza del possesso sarà rimessa bianca. Ricomincia a macinare punti la formazione di casa dopo un'astinenza che è durata quasi un quarto. Pochi punti segnati questa sera dalla formazione di coach Mediot. che anche nell'ultima gara casalinga contro San Martino non ha trovato molte volte il canestro. Ora di nuovo in attacco con Vicenzotti. Palla per Mancabelli che ribalta il lato su Ciotola. Ora di nuovo Vicenzotti. Palla sotto per D'Apozzo che apre il palleggio. Poi di nuovo Ciotola. Scorrono intanto i secondi. Ofomata allora deve andare al tiro con l'aiuto del ferro. Arrivano i due punti per AJ Ofomata. Meno uno quindi per Udine. Dopo il 6 a 0 in questi primi due minuti del terzo quarto. Ora Flore qualche difficoltà fa partire lo schema di Viterbo. Ciavarella riceve il pallone. Nove i secondi sul cronometro. Stoiccova forse commette violazioni di passi. Poi da Pozzo per cercare di recuperare un pallone. Offre un assist con i fiocchi. Proprio alla straniera di Viterbo. Ed è quindi 36 a 39 il punteggio. Riparte Udine però in velocità che questa volta mette in campo un contropiede spettacolare. Sponda di Ofomata che serve bene. Mancabelli in corsa e due punti facili facili per il 38 a 39. Ora di nuovo Viterbo l'attacco sulla linea di fondo di Riccobono. Errore per lei. Allora Mancabelli riparte anche lei in velocità da sola. Coast to coast fino in fondo. Palla che trova il fondo della retina. Nuovo vantaggio per Udine che è partita in ritmo in questo terzo periodo. 10 punti in soli 3 minuti e 40 a 39 il punteggio prima di questo time out. Grazie. 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 Rimessa per Viterbo dopo il time out richiesto proprio dalla panchina di coach Scaramuccia. 40 a 39 il punteggio questa volta a favore della Delser Basket School che ha recuperato tutto lo svantaggio e si è riportato avanti proprio nei primi tre minuti della terza frazione. C'è un nuovo recupero ora proprio per la squadra di casa. Ciotola a chiamare subito lo schema per far muovere le compagne. Arriva Ofomata poi sotto il taglio servito di Eva D'Apozzo che viene chiusa bene dalla difesa. Nella ripartenza avversaria però ci pensa Mancabelli a recuperare il pallone. Extra possesso quindi per Udine con 18 secondi sul cronometro. Vicenzotti sbaglia il passaggio. La rimessa è per Viterbo che potrà ritornare in fase offensiva. Decisamente partenza ottima per Udine in questa terza frazione dopo un secondo quarto sottotono. Viterbo però non molla ed è ancora a meno uno. Arriva il tiro ora a 12 secondi dalla fine dell'azione da parte di Riccobono. assegno per il 40-42 contro sorpasso immediato per Viterbo. Udine deve fare i conti anche con una difesa aggressiva. Questa volta è l'assist di D'Apozzo per Ofomata che vale il 42-42. Si prospetta quindi una partita punto a punto come quella di sabato scorso contro San Martino di Lupari. Anche oggi Udine non riesce a scappare. Ci prova ora con Eva D'Apozzo sotto per Ofomata. Ofomata cerca il canestro in controtempo. sfortunata però in questa frangente riparte allora Viterbo in contropiede. Riccobono facile facile appoggio al tabellone e due punti per 42-44. E' trascorsa intanto metà di questa frazione. Vicenziotti ci prova dalla lunga distanza sfortunata. La palla gioca con il ferro poi esce allora Viterbo può ripartire. Flore sul lato sinistro. Ciavarella punta il canestro poi il passaggio a Riccobono. Palleggio e arresto e tiro. Cutrupi però recupera un rimbalzo dietro a una Ofomata addormentata in questa occasione. Non partecipa all'azione infatti Cutrupi ne approfitta. Serve Riccobono che subisce il fallo e va in lunetta con due tiri liberi. Buono è il tiro libro di Riccobono. Buono anche il secondo due su due. Viterbo di nuovo sul più quattro. Ora Mancabelli a ripartire. Palla per Dappozzo. Di nuovo Mancabelli ciotola sul lato sinistro. Serve Ofomata che gioca due con Eva Dappozzo sotto canestro. Questa volta è la numero 16. È anticipata la difesa. Ciavarella corre in contropiede. Proprio lei ad affermarsi sulla linea del tiro libero e a tirare. Errore per lei. Poi il rimbalzo sempre di Viterbo. che va a segno questa volta con Flore. Due punti e fallo subito. Il fallo di Elisa Mancabelli. Per lei la prima penalità. Flore quindi in lunetta per il tiro libero supplementare. Un gioco potenziale da tre punti. Che varrebbe il più sette. Così non è. Errore per Flore in lunetta. Allora rimaniamo sul 42 a 48. con Udine che fatica anche a superare la linea di metà campo. Questa volta c'è il fischio arbitrale. Riccobono ha commesso fallo su Ciotola. E quindi altra rimessa per Udine. Ciotola chiama lo schema. Si fa vedere Vicenzotti libera. Non riceve. Riceve solo ora. Con la possibilità di andare al tiro da tre punti. Ennesimo errore però per il capitano Udinese. Si lotta poi rimbalzo. Ciavarella ne esce vincitrice. Corre uno contro quattro. Spreca questo possesso Ciavarella. Che invece di passare la palla la compagna in suo soccorso. Riccobono ha preferito andare uno contro quarto. Dall'altra parte è una cosa analoga. Perché anche Vicenzotti rischia di perdere il possesso. Poi però da Pozzo recupera. E subisce il fallo sul tiro. Sarà proprio la numero 16 ad andare in un'età con due tiri liberi. Udine però rimane sempre sul meno 6. 42 a 48. Mancano 3 minuti e 47 al termine della frazione. Buono il primo con un po' di fortuna per Eva da Pozzo. Buono anche il secondo. Si alzano le percentuali dalla linea della carità per Udine. Che nei primi due quarti ha tirato con l'86% dalla lunetta. Ora Viterbo sempre con Flore. Palla fuori per Riccobono che ci riprova. Questa volta c'è l'errore da fuori. Allora Udine può ripartire. Si muovono le giocatrici in maglia bianca. Riceve Mancabelli fuori dall'arco dei 6.75. Poi da Pozzo a servire il taglio di Matilda Ciotola. C'è un fallo in mezzo all'area proprio ai danni della giovane playmaker. Per lei ci saranno due tiri liberi. 44 a 48. 3 minuti e 12. Errore nel primo dei due tiri liberi per Matilda Ciotola. Buono il secondo. Uno su due. Meno tre Udine. E tre minuti da giocare. Flore. Palla per la compagna. Numero 11 Romagnoli. Di nuovo Flore. Flore cerca la compagna in mezzo all'area. Passaggio un po' difficile. Infatti c'è il recupero immediato da parte di Eva D'Apozzo che riapre su Mancabelli. Siamo già in fase offensiva. Con Mancabelli che attacca la difesa. Poi serve il taglio di D'Apozzo. Questa volta c'è la violazione di passi. Proprio della numero 16 Udinese. Rimaniamo quindi sul 45-48. Intanto i secondi scorrono. Ci avviciniamo agli ultimi due minuti di questa terza frazione. E di nuovo Flore ora a gestire il possesso. Sempre zona per Udine che cerca di limitare le penetrazioni. Mancabelli intercetta il passaggio. La palla però esce fuori dal campo. Quindi c'è rimessa per Viterbo che ha 12 secondi per attaccare il canestro. Flore. Palla per Riccobono. Che prova ad attaccare uno contro uno Vicenzotti. Lo scarico poi per Romagnoli. La tripla di Romagnoli. Che spezza questo ritmo decisamente lento. 45-51. La scossa di Viterbo che si riporta sul più 6. Ora Udine che cerca di riaccorciare. Vicenzotti ha tutto lo spazio. Il tiro ha altro errore per Vicenzotti. Da Pozzolotta rimbalzo. Pallone recuperato. Poi Mancabelli anche lei dalla distanza. Mancabelli è più precisa di Vicenzotti. Arrivano altri due punti per la guardia ex Viterbo. 47-51. Ciavarella sbaglia il primo passo del palleggio permettendo a Udine di riportarsi in fase offensiva. Ofomata però anche lei spreca questa opportunità. Fa tutto da sola. Poi però la sua conclusione prende la tangente. Dall'altra parte è Matilda Ciotola a recuperare il possesso. Udine allora spinge per trovare subito il canestro. Ofomata però spreca di nuovo l'opportunità di andare a segnare e regala i due punti a Viterbo che con Riccobono si porta sul 47-53. Udine crea tanto ma concretizza poco. Anche in quest'ultima occasione il passaggio da Mancabelli a Ofomata è sbagliato. Viterbo recupera un altro pallone e intanto Mediot effettua un cambio, anzi due cambi per mutare un po' le carte in tavola. Entra di nuovo Caterina Bianco. Entra anche Vanessa Sturma. Si alza decisamente il quintetto in questa fase finale del terzo periodo. Riccobono. Palla fuori poi per Romagnoli contro Ciotola. Si chiude bene la strada sotto Ciavarella però ha lo spazio per tirare contro Mancabelli. Ciavarella va a segnare il 47-55. Sulla rimessa c'è il fallo della difesa. Raiola ferma Matilda Ciotola che ora avrà l'opportunità per la regola del bonus di andare in lunetta con due tiri liberi. Buono il primo per il playmaker classe 98. Buono anche il secondo. Udine rimane a galla con i tiri liberi. 49-55. Ultime battute del terzo quarto. Raiola contro Ciotola. Si fa vedere la lunga numero 16. Poi di nuovo Raiola che ora cerca di sfruttare il mismatch. riceve infatti sotto canestro Kutrupi che subisce il fallo della difesa anche se forse ha commesso violazioni di passi prima del tiro. In ogni caso per lei ci saranno due tiri liberi. Errore per Kutrupi. Poi ci saranno 21 secondi per Udine per arrivare dall'altra parte e cercare almeno di riaccorciare. Altro errore. Rimbalzo facile per Vicenzotti. Udine supera la linea in metà campo. 16 i secondi per attaccare il canestro. Ciotola allora aspetta prima di iniziare l'azione. Mancabelli riceve di nuovo Ciotola. 4 i secondi. Riceve Vicenzotti dal tiro libero. E finalmente anche il capitano trova i due punti. 51 a 55 e ora due minuti di pausa prima degli ultimi dieci minuti che decideranno la vincitrice di questa decima giornata del campionato di serie A2 femminile. Ultimi dieci minuti della sfida tra Libertas Basket School e Defensor Viterbo per questa decima giornata del campionato di serie A2 femminile. Viterbo guida la gara 55 a 51 ed è proprio la squadra ospite ad aprire questo ultimo quarto. Mancabelli però recupera il possesso. Riparte allora l'attacco Udinese. Malissa Sturma rischia di commettere violazioni di passi. Poi si ferma giusto in tempo per riaprire il gioco. Riceve Mancabelli fuori dall'arco. Poi Bianco scorrono intanto i secondi. Ciotola la decide per la tripla dal lato sinistro. Errore anche per Ciotola. Allora è Romagnoli a far ripartire il contropiede di Viterbo. Transizione veloce quella per le ragazze in maglia blu. Raio la tira. C'è l'errore. Allora dall'altra parte Mancabelli si arresta. e ne mette altri due. Quota 20 per Elisa Mancabelli. E 53 a 55 il punteggio. Mancabelli continua a macinare punti e lei a trascinare le compagne. Dopo il recupero di Vicenzotti Mancabelli riparte e trova il recupero difensivo di Raiola. Che secondo l'arbitro è intervenuta fallosamente. Ci sarà rimessa per Udine con 20 secondi sul cronometro. Intanto coach Scaramuccia richiama in panchina Riccobono. In campo. In campo con il numero uno Pugioni. Intanto Udine attacca con il taglio di Vanessa Sturma. Errore però nella conclusione finale. È proprio Sturma a lottare per recuperare questo possesso e ci riesce. Arriva Matilda Ciotola che fa ripartire Udine. Mancabelli deve solo depositare il pallone. Assist di Caterina Bianco. E altri due punti per Elisa Mancabelli che sale a quota 22. Udine impatta la gara 55 a 55. Terzo pareggio dell'incontro dopo i primi due nei quarti precedenti. Assistiamo a una gara tra sorpassi e controsorpassi. Ora è il fallo della difesa con l'attacco di Viterbo. Coach Scaramuccia richiama in panchina Raiola. Al suo posto rientra con il 25 Flore. Romagnoli riceve anticipato da Mancabelli che commette un fallo. Il terzo fallo personale. Ancora Viterbo quindi in attacco. Altri 14 secondi. 8 minuti e 13 sul cronometro. Barità a quota 55. Ora Flore attacca. Viene raddoppiata la difesa. Allora palla Romagnoli. Ribaltamento su Pugioni. Che trova sotto la lunga. Poi Romagnoli taglia ma viene anticipata la difesa. Allora Vicenzotti ha tutto il campo per far partire il contropiede. Mancabelli cerca l'assist con il passaggio dietro alla schiena. La difesa è abile a metterci una mano. E a fermare questa transizione che poteva portare al nuovo vantaggio udinese. Siamo però sempre in fase offensiva. Anzi no perché Viterbo recupera il pallone. Le laziali però non riescono a concretizzare. Perché è brava Catrina Bianco a rientrare in difesa e a sporcare questo possesso. Altra rimessa sempre in fase offensiva. Romagnoli da tre punti ci prova. Troppo corta la conclusione. Sturma recupera in facilità. Poi ciotola dall'altra parte per aprire a Vicenzotti. Sturma fuori dall'alco dei tre punti. Prova a ribaltare il lato. Un passaggio quasi telefonato per la difesa. Infatti Ciavarella recupera il possesso. Poi riparte e subisce il fallo di Vicenzotti che cerca proprio di fermare il contropiede avversario. Mediot allora effettua anche un cambio. Esce proprio Sturma. Rientra con il numero 16 Eva D'Apozzo. Viterbo attacca. Flore palla poi per Pugioni sul lato destro del campo contro Mancabelli. Romagnoli non si fa rubare la palla da Vicenzotti. La numero 13 in maglia bianca sporca solo il pallone. Rimessa subito effettuata per la squadra ospite che ora attacca con la numero 25 Flore. Per lei però c'è pallo in attacco ai danni di Matilda Ciotola che questa sera si è guadagnata un ampio minutaggio. Fiducia da parte di coach Mediot anche per i quattro falli di Carlotta Rainis relegata ormai da parecchi minuti in panchina. Ciotola ora sbaglia il passaggio. Ciavarella allora può correre in contropiede uno contro uno fino in fondo. Palla appoggiata al tabellone. Altri due punti per la numero 9. 55 a 57 quindi qui al pala Benedetti a 6 minuti e 50 dalla fine. Udine ha la palla in mano ma nuovamente insegue le avversarie. Vicenzotti allo spazio ci prova e questa volta la tripla va a segno. Scossa anche da parte del capitano Friulano. 58 a 57 Udine si riporta con la testa avanti ma è ancora lunga prima della fine dell'incontro. Viterbo attacca Romagnoli. Prova a rispondere sempre dalla lunga distanza. Questa volta la conclusione non trova neanche il ferro. a rimbalzo si lotta. Palla contesa e per l'alternanza è possesso bianco. riceve Vicenzotti. Viterbo accenna a una difesa a tutto campo. Ciotola ha qualche difficoltà a superarli metà campo. Poi però Viterbo si sbilancia quindi Udine può sfruttare l'occasione. Bianco si gira bene poi sbaglia completamente la conclusione finale. Altro errore da sotto che pesa in questo frangente. Viterbo è già dall'altra parte. Ciavarella sfrutta la linea di fondo poi si alza per depositare il pallone. Sfortunata in questa occasione la numero 9 Ciavarella. Giovanissima classe 97. Ricordiamo che viaggia con 16 punti di media. Anche questa sera ha fatto molto male a Udine. Soprattutto nel secondo tempo. Vicenzotti intanto ci riprova dall'arco dei tre punti. Altro errore. Ritmo frenetico in quest'ultima frazione. Errori da entrambe le parti. Le squadre stanno cercando il tiro dalla lunga distanza. Ma non con buon esito. Ora Flore ci prova. Uno contro uno viene fermata dalla difesa di Caterina Bianco che si è trovata al posto giusto nel momento giusto. Udine ora adesso prova a segnare da Pozzo, da Sole, mezzo all'area. Appoggio a canestro con esito non felice. Infatti non arrivano i due punti. Viterbo dall'altra parte subisce anche il fallo con Flore. Quarto fallo di Mancabelli ai danni di Flore. Coach Medio allora prova a cambiare. Rientra infatti Carlotta Rainis al posto di Matilda Ciotola. E Ofumata al posto di Caterina Bianco. Rainis, ricordiamo, ha quattro falli a suo carico. Dovrà stare attenta a gestirsi in questi ultimi cinque minuti dell'incontro. Riceve Pugioni. Ora Flore nel frattempo si alza il tifo udinese qui al pala Benedetti. Flore si inventa un canestro in mezzo all'area contro la difesa. 58-59, altro sorpasso per Viterbo. Udine riparte con il palleggio di D'Apozzo. Poi Rainis a risistemare i movimenti delle proprie compagne. Mancabelli si butta in aria, però cerca l'assist per Vicenzotti. Per sua fortuna l'ultima a toccare è stata Ciavarella. Rimaniamo in attacco con Udine. Sono cinque però i secondi prima del suono della sirena. Ci vorrebbe un canestro rapido. Vicenzotti si fa vedere, apre per Mancabelli che tira quasi da casa sua. Mancabelli però oggi è in serata. Anzi dire in serata è quasi poco. Altra tripla per Elisa Mancabelli. Quota 25 punti per lei e 61 per Udine. Questa tripla smuove decisamente gli animi friulani. Palla quasi recuperata infatti dalla difesa. Ma adesso c'è il time out a 4 minuti e 5 dal termine. 61-1, 59, Viterbo. Squadre che rientrano in campo dopo il minuto di sospensione. Palla a Viterbo con 14 secondi per attaccare il canestro. Ciavarella riceve e tira subito dalla lunga distanza. Solo primo ferro per lei. Allora Udine può ripartire. Le friulani sono avanti. 61-59 dopo la tripla di Elisa Mancabelli. Ora Rainis, di nuovo Mancabelli. Palla per Ofomata da sola. Anche Ijei Ofomata trova i due punti. 63-59. Cresce Udine in quest'ultimo periodo. Viterbo invece sta facendo fatica ad arrivare al ferro. Pugioni infatti si accontenta del tiro da tre punti contro la difesa di Vicenzotti. Anche per lei troppo corta la conclusione. Facile rimbalzo per la difesa di casa. Mancabelli apre il palleggio, poi ribalta al lato su Vicenzotti. Passaggio difficile che però riesce. Poi Ofomata sotto per Da Pozzo. Di nuovo la straniera di Udine che arriva fino in fondo. Primo ferro per lei. Si lotta fino alla fine. E quasi allo scadere arriva la palla conquistata da parte di Ijei Ofomata. Perché l'ultima a toccare è stata una giocatrice in maglia blu. Intanto coach Scaramuccia. Effetto a cambio. Rientra con il numero 5 Raiola. 63-59. Tre minuti scarsi sul cronometro di gara. Riceve Vicenzotti. 12 i secondi per quest'azione odinese. Subito segnalato però il fallo della numero 9 Ciavarella. Il suo secondo fallo personale. Ciavarella tenta di recuperare il possesso per andare in attacco e segnare. L'abbiamo vista fare questo recupero difensivo parecchie volte. Nel frattempo però Elisa Mancabelli scatenata dall'arco dei tre punti. Si ne mette un'altra. E lei a trascinare Udine in questo finale di gara. 66-59. È incontenibile questa sera Elisa Mancabelli. Appena la difesa si distrae lei sa colpire. Ora Romagnoli prova a rispondere a altro errore da fuori. Udine recupera il possesso. Si alza l'applauso del pubblico che incita le proprie giocatrici per questi ultimi minuti dell'incontro. Vincere oggi significherebbe mettere a referto la terza vittoria consecutiva. Dopo Civitanova Marche e la sfida contro San Martino di sabato scorso. La vittoria di oggi concretizzerebbe ancora di più il quinto posto in classifica. Udine però pasticcia in questa ultima azione. Punteggio quindi che rimane sempre sul 66-55. Due minuti e 05 da giocare. Viterbo deve alzare il ritmo per cercare di rientrare e giocarsela fino in fondo. Ora Raiola contro Rainis. Palla Ciavarella che sfrutta la sua velocità per attaccare il canestro. Palleggio arresto e tiro. Molto brava Ciavarella in questa circostanza. A segnare contro la difesa. Dall'altra parte Ofomata sbaglia il controllo di palla. Commette violazioni di passi abbastanza clamoroso oserei dire. regalando un possesso importante a Viterbo che ora ha l'opportunità di riaccorciare. 66-61. Palla proprio a Ciavarella che viene cercata continuamente dalle compagne. Come terminale offensivo. Ciavarella palleggia arresto e tiro. Errore questa volta. Lotta però Ciavarella a rimbalzo. E fa bene perché recupera un extra possesso. Ora Romagnoli. contro Rainis. Gioco a due sotto per la palla a Kutrupi che subisce il fallo durante il tiro. Non c'è canestro ma ci saranno due tiri liberi per Kutrupi. A un minuto e diciannove dal termine. Errore per Kutrupi. Errore anche nel secondo. Zero su due per Kutrupi. Udine si riporta in attacco. Rainis però sbaglia il passaggio. Per la sua fortuna D'Apozzo è abile a recuperare subito il possesso. Qualche difficoltà per Carlotta Rainis in quest'ultimo frangente. Arriva il fallo della difesa su D'Apozzo che spezza il gioco momentaneamente. 14 secondi per l'azione udinese. un minuto e due al termine. Riceve Ufomata. Palla consegnata poi a Vicenzotti. Difende forte Romagnoli per evitare una penetrazione del capitano. Due secondi per attirare. Vicenzotti prova un gancio dai tre punti. Ovviamente la palla si spegne fuori dal campo e sarà rimessa a Viterbo. Nel frattempo coach Scaramuccia rimette dentro Stoicova. Per quest'ultimo minuto scarso di gioco. Palla a Flore. Ciavarella per Romagnoli. Fino in fondo Romagnoli cerca il tabellone. D'Apozzo taglia fuori la difesa e recupera il rimbalzo. Udine allora può portarsi di nuovo in attacco. Ritmo frenetico per Vicenzotti e compagni che invece dovrebbero aspettare giocare con il tempo. Viterbo riesce a recuperare anche questo pallone. Udine allora si deve accontentare della difesa. 24 secondi per mantenersi in vantaggio e chiudere avanti questa partita. Flore attacca da Pozzo. Aiuto di Ofomata. Flore trova solo il tabellone di gara. Quindi rimessa Udine. E time out automatico di coach Scaramuccia che si gioca il tutto per tutto. Udine 66, Viterbo 61 a rientro. 15 secondi per la fine della gara. Rimessa Udine. 15 secondi sul cronometro. Riceve Mancabelli. Palla per D'Apozzo. Ottima circolazione per Udine che evita anche il fallo e va a segnare con Ijei Ofomata. Canestro che sancisce definitivamente la vittoria della Libertas Basket School contro la Defensor Viterbo in questa decima giornata di campionato di serie A2. Suona la sirena qui al Palabenedetti. Inizia la festa. 68 a 61 il punteggio finale. Udine può festeggiare la terza vittoria consecutiva. Non senza fatica perché Viterbo è venuta qui a Udine per giocarsela fino in fondo. Una gara equilibrata. Poi però una Mancabelli da 28 punti che regala il 68 a 61 finale. Io ringrazio tutti voi per essere stati qui con noi e vi rimando alla partita del 17 dicembre sempre qui al Palabenedetti con il derby tra Delster Basket School e Sistema Rosa Pordenone. Grazie a tutti. Grazie a tutti.